Innanzitutto, quanto è bella Roma oggi? E' bellissima come sempre, da 2000 anni che è così, conservata bene, cresciuta meglio. Io ho un rapporto con questa città molto intenso. Sei stato a lungo però, lontano da Roma, una ventina d'anni. Sei tornato per un film, se non sbaglio, proprio, un paio d'anni fa? Sì, per fare Roma Nuda. Roma Nuda. Sì, con Francesco Benditti e con Franco Califano, ma c'è l'anima sua. Ed è, l'ho visto l'altro giorno, un bellissimo film. E anche noi in Roma e l'Italia lo tende tanto questo film? Beh, io sapevo che qui mi volevano bene ma non sapevo che era così tanto. Che rapporto hai avuto con gli altri protagonisti del film tra tutti, Francesco Benditti e Eva Enger? Fantastico. Cioè, molto buono. Francesco è bravissimo nel film ed è lui il protagonista. Io faccio una partecipazione, faccio il questore, un vecchio questore in pensione che vuole continuare. Il mistero dell'interno le dà il suo ufficio e tutto quanto e lui continua a fare le indagini. Thomas, ho letto una tua dichiarazione di un paio d'anni fa che mi ha fatto venire i brividi, ma anche brividi di sentimento per Roma profondo. Tu hai detto un giorno, il più lontano possibile ovviamente, vorrò la terra di Roma sopra di me. Che intendevi dire con questo? È quello che se tu metti della terra sopra di me vuol dire che sono morto. Quando crepo, quando muoio, vorrei essere sotterrato nella città, questa città che mi ha amato tanto, che mi ha dato tutto nella vita. Mia moglie, mio figlio, successo, amore, soprattutto tanto amore che l'ho scoperto adesso. Perché sapevo essere popolare, amato, non sapevo però a che punto. E ho constatato che è veramente tanto. Ecco, e come a questo punto, sempre più lontano possibile, speri di essere ricordato dal tuo pubblico e da tutte queste persone che ti vogliono bene? Io ho la mia veneranda età, che vabbè... Ti facciamo gli auguri perché è stato il tuo compleanno il 3 marzo? Il 3 marzo, ecco, il 3 marzo, vabbè, non lo voglio dire qui, ma vabbè, io ho già 80 anni. Questa città e questo paese mi ama, vuol dire che questo amore l'ho trasmesso attraverso lo schermo, col monnezza, col poliziotto, col gobbo, che adesso mi hanno offerto di fare il seguito del gobbo, un film che si chiama Roma Capoccia. Roma Capoccia è un tuo progetto futuro quindi questo? Eh sì, me l'hanno appena detto. Bene, sono contento, auguri anche da parte della nostra emittente e tutti i nostri ascoltatori che ti stanno guardando in questo momento. Grazie, grazie. E infatti il film inizia quando io ho fatto il gobbo prima e il gobbo cadeva nel fiume con la macchina. Ecco, adesso il gobbo non era morto. Sta in ospedale, con gli occhi chiusi, proprio no, si riservata, eccetera, eccetera. Ad un certo punto apro gli occhi ed eccolo lì di nuovo il gobbo nel seguito il film che ti ho appena detto il titolo, Roma Capoccia. Capoccia. Tu, dopo i poliziottischi che tutti conosciamo e tutti ce l'abbiamo nel cuore, ci siamo cresciuti, ci siamo ispirati, ti abbiamo riso, pianto con quei film. Però poi sei tornato in America e hai fatto anche grandi film con grandi registi. Se non sbaglio questo bastone l'ho visto da qualche altra parte. Questo, Traffic, di Steven Soderbergh. Hai lavorato anche con Spielberg poi? Sì, no, perché Spielberg, a parte che mi sta antipatico. Tu sei una persona di cuore, Thomas, noi ti immaginavamo sempre un po' ruvido, invece sei una persona di grande cuore. La forza di essere ruvido, uno si stanca e viene fuori la vera natura. La vera natura mia è quella quando sono stanco di essere ruvido. Non lo so, dillo te. Io dico una cosa che ti ho apprezzato, ti parlo anche come spettatore cinematografico, sì nei tuoi film più conosciuti in Italia, ma vogliamo dire che tu hai lavorato nel bell'Antonio e poche persone magari, rispetto alla massa che conosce, che è importante per carità, Ramonnezza e tu il Gobbo e tutti quelli che hai lavorato con registi importanti. Bolognini ti scoprì a Spoleto, è vera questa storia? Sì, sì, facevo una pantomima e Bolognini era lì, mi ha detto che mi voleva come uno dei protagonisti della Notte Brava, mi ha detto ma io non parlo italiano. Allora mi ha detto ma qui si doppia, qui si doppia, vuol dire che un altro parla per me. Mi dice sì, ma non ti preoccupare, tu fai il film in presa diretta, in inglese o come vuoi tu. E allora le ho detto a un amico mio che era il segretario dei Minotri, qui mi vogliono per un film, però uno dei protagonisti mi dà un sacco di soldi, che devo fare? Dice però, ah, dico però me vogliono doppiare, me devono doppiare. Dice ma che ti importa? Dico scusa Thomas, c'hai tanti di quei debiti a New York, dice incluso con me, fai il film, prendi i soldi, portali a New York, paga tutti. Dico vabbè, e questo infatti devo la mia carriera ai debiti, devo dire.